Dopo la lunga sosta e tempo di tornare in campo per il campionato di eccellenza, nel girone a la Nissa si appresta a fare visita alla Folgore nel match valido per la 27esima giornata in programma domenica prossima 7 aprile alle ore 16 allo stadio Paolo Marino di Castelvetrano. Un appuntamento determinante per la capolista che con una vittoria a 7 punti di vantaggio davanti la profavara si presenterebbe allo stadio Tomaselli la settimana successiva con la possibilità di centrare la matematica promozione in Serie D. È sempre più vicino l'obiettivo con la formazione nissena che è tornata al lavoro nell'intento di perfezionare la preparazione in vista della delicata trasferta nel salotto di una Folgore, reduce da due sconfitte di fila e in piena bagarre per evitare la zona play-out. Il suo dalizio rosso-nero è alla disperata ricerca di punti per mantenere a distanza la palude della zona retrocessione e mantenere la permanenza della categoria, obiettivo diametralmente opposto di una Nissa che vuole centrare l'obiettivo della promozione in Serie D, destinazione che la San Cataldese vuole mantenere a margine di un torneo altalenante e pieno di insidie. La formazione Verda Maranto si presenterà nel campo dell'Ocri, il match in programma domenica prossima 7 aprile alle ore 15 allo stadio Giuseppe Barone è valido per la 34esima giornata del girone I di Serie D. Per l'undici di passiatore un autentico scontro diretto che potrebbe consentire di fare un sostanziale passo verso il sofferto traguardo. La San Cataldese si presenterà reduce dal pari a reti inviolate contro il Canicattì che ha vinto con un netto 3-0 proprio con il Locri prima del turno di riposo. Un match delicato e da non sbagliare quando alla fine del campionato regolamentare mancano soltanto 5 giornate.